salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto in un travel vlog di quelli molto interessanti ci troviamo sul lago di garda quindi tutto quello che vedrete è svolto appunto qui sul lago di garda siamo ad aprile ragazzi ma c'è una temperatura pazzesca siamo intorno ai 25 gradi e direi che è ottimale per il parco termale perché qua c'è un laghetto termale a colà vicino alla zise che è tanta roba perché comunque un laghetto naturale con acqua sorgente calda a circa 30 gradi immerso in questo parco verdissimo faccio vedere qui c'è un primo lago ma non è quello dove stiamo andando noi che è un po piovanti quindi tutto quello che vedrete ripreso qua dentro sarà fatto con instago 2 che è quella che mi sta riprendendo anche in questo momento quindi tutta la parte acquatica e non sarà con instago 2 dopodiché faremo volare ovviamente qualche drone non qua ci sposteremo a sirmione dove volerà a san zino mini pro sul castello scaligero di sirmione quindi ragazzi sarà un bel travel vlog molto ricco come avrete capito ma adesso ragazzi direi di non perdere il tempo quindi se il video dovesse piacere vi lasciate un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anteprime tantissime cose arrivano su instagram sempre se mi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante la tecnologia e i droni quindi tantissimi sconti dedicati arrivano lì ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi anche un video un volo una recensione un testo un tutorial una novità ma adesso ragazzi iniziamo questo travel vlog qui sul lago di garda andiamo ciao 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 è 15 di aprile sono le sette di sera ed è ancora uno spettacolo ci sta da dio vabbè l'acqua è calda anche d'inverno quando fa tanto freddo però anche fuori c'è ancora un clima veramente passetto e questa la conferma che non ci sono più le stagioni è ancora uno spettacolo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.